Erano in tanti nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento per l'ultimo saluto al piccolo Mauro, il bimbo di 12 anni, scomparso dopo aver lottato per un mese all'ospedale Santo Bono di Napoli. Mauro era stato colpito da un malore che lo aveva fatto cadere al suolo di colpo durante una partita di rugby nel quartiere Pacevecchia, dove la squadra del quarto circolo stava partecipando al torneo a Scantini. Subito i primi soccorsi, la corsa al Sampio di Benevento, il trasferimento e nell'ambulanza al Santo Bono di Napoli. Il quartiere Ferrovia, dove era nato e cresciuto il piccolo, aveva organizzato anche una fiaccollata di preghiera. Lo stesso quartiere che si è stretto attorno alla famiglia durante il rito funebre a cui ha partecipato anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella, sulla bara bianca la maglia del club di rugby accompagnata all'uscita della chiesa da centinaia di palloncini bianchi. La Guardia di Finanza della Compagnia di Nociara Inferiore ha sequestrato a pagani 7.600 giocattoli contraffatti, oltre a brand di serie televisive di successo della Disney e Marvel, risultati contraffatti e non conformi agli standard di produzione delle famose case madri. Il responsabile imprenditore locale è stato denunciato alla Procura per l'introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Nell'operazione anche mille mascherine sequestrate, risultate non idonee alla normativa europea. Su disposizione della Procura di Napoli, della distrettuale antimafia, i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito nove misure, otto in carcere, una con obbligo di dimora, indiziato per associazione per delinquere, finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, compresa importazione e detenzione di ingenti quantitativi di droga. Cocaina sintetizzata, proveniente dalla Colombia e da Panama, nascosta in fertilizzante organico e caffè macinato. La merce, attraverso un procedimento chimico, sarebbe stata poi estratta dal carico di copertura e dopo una miscelazione con sostanze da taglio immessa nel mercato clandestino napoletano. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla strada statale 7bis ofantina nel territorio del comune di Nusco, in provincia di Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture a bordo di una viera un uomo con un figlio piccolo, mentre nell'altra una donna, la quale rimaneva ferita e veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per essere sottoposta a cure mediche. Gli altri due occupanti sono stati visitati sul posto ma non hanno fatto ricorso al ricovero ospedaliero i veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.